Dunque, eravamo arrivati a questo punto nel parlare dei dizionari. Oltre che abbiamo visto come crearli, come aggiungere i dati, vediamo un po' come poterli usare, essenzialmente leggere i dati, iterare su questa struttura dati e così via. Ok? Magari passiamo nel nostro esempio su PyCharm, esempio dizionari, dal Python tutor che avevamo prima, me lo trasferisco su PyCharm per poter fare qualcosa un pochino di più. Ok? Allora, qui ho definito questo dizionario, abbiamo visto che possiamo poi aggiungere dei nuovi elementi. Abbiamo detto che Carlo aveva preso, non mi ricordo più, un 25. Abbiamo visto che si poteva, ad esempio, stampare questo dizionario e ci faceva vedere tutte le coppie chiave valore, chiave valore, dove in questo caso il valore era appunto una lista. Però qui è la print normale. Come potrei fare se volessi invece iterare un elemento per volta e dire magari quanti voti ci sono, oppure facciamo la media di questi voti per le singole persone. Allora, ci sono diversi modi di poter esaminare uno a uno gli elementi. Il modo più semplice è un ciclo sulle chiavi. Quindi se io uso un for-in usando il nome del dizionario, context qua era un dizionario, iterare sul dizionario significa iterare sulle chiavi. E quindi ad ogni iterazione avrò un valore di una chiave e poi attraverso la chiave posso accedere all'elemento. Quindi ad esempio nel mio programma potrei stampare, potrei decidere, stampa tutti gli studenti. Allora in questo caso for nome in voti, allora posso stampare il nome. Quindi voti è un dizionario. Il ciclo for su un dizionario itera sulle chiavi associati al dizionario stesso, presenti nel dizionario stesso. E quindi vedete che mi stampa i tre nomi che sono presenti al loro interno. In che ordine stampa questi nomi? Li stampa in ordine di inserimento. Ok? Quindi se io ho inserito, in questo caso ho inserito prima Antonio, poi Bruno e poi Carlo e mi li stampa in quest'ordine. Se io avessi scambiato tra di loro questi due nomi, prima Bruno e poi Antonio, mi stamperebbe prima Bruno, poi Antonio. Quindi le chiavi di un dizionario sono una cosa un po' strana, sono un po' una via di mezzo tra un insieme e una lista. Sono un insieme perché sono univoche, perché devono essere di un tipo di dato univoco e immutabile. Ma il dizionario si ricorda l'ordine di inserimento. Questa è una cosa un po' particolare e tra l'altro è solamente nelle versioni più recenti di Python, più recenti vuol dire tra quattro anni fa, quindi è stato, prima di quella versione le chiavi di un dizionario erano disordinate così come erano disordinati gli elementi di un insieme. Poi hanno visto che tanti programmatori facevano casino con questo, anche perché i dizionari sono usati molto più degli insiemi e allora hanno modificato l'implementazione del dizionario in modo da garantire che l'ordine di estrazione, l'ordine di iterazione delle chiavi nel dizionario coincida con l'ordine di inserimento degli elementi all'interno del dizionario stesso, l'ordine di creazione delle chiavi stesse. E questo se mi va bene ovviamente l'ordine di inserimento, altrimenti se non mi andasse bene l'ordine di inserimento, come c'è scritto su questa slide, posso sempre usare un sorted. Allora la funzione sorted sul dizionario restituisce una lista ordinata delle chiavi presenti nel dizionario. Ricordiamoci che sorted la prima cosa che fa è estrarre una lista. La lista non di tutti gli elementi di dizionario perché non ce la farebbe, ma solamente delle chiavi. Poi queste chiavi vengono ordinate e poi itero su queste chiavi ordinate in senso alfabetico, in senso numerico a seconda di che cosa siano queste chiavi. Quindi questo è il secondo modo di iterare sempre usando un ciclo for, però prendendo le chiavi e convertendole in una lista ordinata. In questo caso ho stampato appunto il valore della chiave, ma posso anche stampare, non so, calcolarmi la media degli esami di questi signori. Allora posso calcolare la media come? Andando a prendere voti di nome. Scusate, diciamo così, non facciamo così in fretta. Lista voti. Quindi immaginiamo di poter stampare anche la media degli esami di ciascuno. Allora il ciclo for mi genera, mi itera su tutte le chiavi. Data una chiave devo andare a prendere il valore, che in questo caso è una lista. Di questa lista posso calcolare la media uguale sum di lista voti fratto l'en di lista voti. E quindi a questo punto potrò stampare che la media di nome è media. Quindi se voglio analizzare il contenuto di un dizionario itero sulle chiavi e per ciascuna chiave mi vado a prendere il valore corrispondente usando semplicemente l'iniziazione, l'operatore, le parentesi quadre. Qui non ho dubbi che la chiave esista. Non ci devo mettere un if per evitare il key error. Qui il key error non si può di sicuro verificare perché il valore della chiave che sto usando me l'ha dato lui facendo il for appena sopra. Quindi se non faccio casini, all'alta fazzi, mi cancello le cose su cui devo iterare, sono sicuro che le chiavi ci siano. E su questo valore faccio ciò che devo fare. In questo caso ho calcolato una media e mi dirà appunto che la media di queste persone ha certi valori. Ma a questo punto è una lista, quindi ci faccio tutte le cose che potevo fare su una lista. L'ho estratta dal dizionario. Ok? Poi in questo caso come vedete mi vengono fuori in un ordine di inserimento che ho un pochino taroccato. Se li volessi in ordine alfabetico ovviamente dovrei qua appunto mettere in ordine alfabetico le chiavi del dizionario. E mi dà ovviamente la stessa cosa iterandolo in un ordine diverso. Ok? È un po' scomodo, perché noi siamo sempre più pigri, dover iterare sulle chiavi e per ogni chiave fare un accesso al dizionario per ottenere l'elemento. Perché è come se noi avessimo, vedete, quel dizionario ce lo visualizziamo con una bella tabella a due colonne. Non guardiamo la seconda colonna e guardiamo solamente la prima con le chiavi. Poi per ciascuna riga di quella prima colonna dico ah però guarda mi serve il valore a fianco e allora vado a rifare un secondo accesso al dizionario per prendere il valore. Nulla di male, è quello che abbiamo scritto qui. Itero sulle chiavi e per ogni chiave estrago il valore. Esiste però un modo più, diciamo così, compatto di iterare contemporaneamente su chiavi e valori. È quello di usare il metodo, la proprietà, il metodo items del dizionario. Cos'è items? Items è un metodo che prende un dizionario e lo converte in una lista di coppie, tuple, tuple di due elementi, chiamiamole pure coppie. Quindi prendi il dizionario che sono quella, ce lo visualizziamo mentalmente come quella tabellina che abbiamo visto sul Python Tutor e me lo converte in una lista di coppie dove ci sono, nella prima coppia c'è chiave, valore, nella seconda coppia c'è chiave, valore e così via. E quindi iterando su questa lista ad ogni iterazione avrò i due elementi, la chiave e il valore corrispondente già pronti in mano. In realtà poi items è un pochino più furba, nel senso che non mi calcola la lista, sarebbe uno spreco prendere un dizionario, travasarlo in una lista e poi dopo di nuovo iterare su questa lista. Crea una cosiddetta vista dinamica che sembra una lista ma in realtà non occupa la memoria della lista, ma è un dettaglio. Su questo oggetto qui, su questa vista è possibile iterare e andare ad analizzare una riga per volta. Quindi proviamo a vederlo. Se io iterassi non, quindi for, chiamiamo x perché non sappiamo bene che cos'è, in voti.items, voti.items, print x, cioè per scoprire che cos'è questo item. Quindi voti è un dizionario, voti.items estrae una lista di coppie e l'iterazione for itera una per una su questa lista di coppie. Ciò che vedrò è una cosa di questo genere. Queste print corrispondono a queste ultime tre righe, dove vedete che ci sono tre coppie, sono tuple tra parenti di quadrata, tonda, tra parenti di tonda. Il primo elemento della tupla, quindi tupla di zero, è la chiave, è un riferimento alla chiave del primo elemento, del secondo elemento, del terzo elemento, dell'elemento su cui sto iterando. Il secondo elemento della tupla è il valore. Quindi io all'interno di un ciclo di questo genere potrò benissimo dire che praticamente il nome non è altro che x di zero e la lista dei voti non è altro che x di uno. x è una tupla, adesso x è brutto, chiamiamolo item, l'elemento. Avendo capito che cos'è, è un elemento del dizionario. Il dizionario è fatto quasi, c'è tanti elementi, ciascuno dei quali è una coppia chiave-valore, l'avevamo già anche definito così. Un elemento della mappa è una chiave col suo valore associato. Items mi estrae questo elenco di coppie sotto forma di tuple e di queste tuple posso estrarre il primo o il secondo elemento che corrispondono appunto alla chiave e al valore. Quindi questa struttura, a parte la print, è esattamente equivalente a quella di prima, dove, facciamo perdere il sorted per il momento, se vogliamo parlare di strutture equivalenti. Prima iter sulle chiavi e per ogni chiave estraggo il valore. Qui invece estraggo le coppie, iter sulle coppie e la chiave e valore saranno rispettivamente il primo o secondo elemento delle coppie. È possibile anche semplificare ancora un passo in più questa scrittura usando lo spacchettamento automatico delle tuple, scrivendo, allora, sempre questo ciclo form, dovriché io cosa ho fatto qua? Ho creato le tuple associate a un dizionario e le ho associate a una variabile. Questa variabile, ad ogni iterazione, l'abbiamo visto qua con questa print, è una tupla diversa. Ma io questa tupla, alziché assegnarla a una variabile per poi spacchettarla in pezzettini, posso direttamente spacchettarla qui dentro il foro, in due sottovariabili che corrisponderanno alla prima componente della tupla, che è il nome, e alla seconda componente della tupla, che è la lista di voti. E questo è il nostro punto d'arrivo. Quindi prendo il dizionario, lo converto in una lista di coppie, itero su questa lista di coppie, e per ciascuna coppia di questa lista, la assegno, assegno i due elementi, il primo e il secondo elemento, quello di indice 0 e di indice 1 della tupla, a due variabili diverse che ho chiamato nomi e lista voti, e a questo punto poi posso stamparmi, calcolarmi la mia media, come prima. Quindi ovviamente queste ultime tre righe sono quelle che abbiamo stampate qua sotto, il risultato è ovviamente lo stesso. Ok? È solo perché questa sintesi qua, a prima vista è una cosa un po' strana, ma si basa essenzialmente su questo items che ci estrae da solo tutte le coppie. E quindi ci evita, alla fine, oh abbiamo fatto un grosso discorso per evitare questa istruzione qui, eh. L'unica differenza tra il primo e l'ultima riga, l'ultimo esempio è questa istruzione. Ho estratto, ho fatto un ulteriore accesso al dizionario per prendere la chiave giusta. Quindi non cambia realtà di molto. Però effettivamente può essere più leggibile, più semplice da leggere una volta che uno ha capito il meccanismo. E queste grossomodo sono le operazioni che possiamo fare su un dizionario. Esiste ancora un altro metodo che non abbiamo visto, che è questo, values, che restituisce una lista contenente solo i valori del dizionario. Quindi sarebbe la seconda colonna di quella tabellina gialla. Non è che serva molto, essenzialmente, perché ho la lista dei valori ma non so più qual è la chiave associata ad essi. E quindi sì, sì, posso iterarli, posso stampare, però ho perso un pochino il riferimento che avevo. Non si usa poi così frequentemente come le altre. Mentre invece keys mi restituisce l'elenco delle chiavi. Quindi il dizionario è questa tua bella tabellina. Poi se voglio ottenere i vari pezzi del dizionario keys mi dà una lista con la prima colonna, solo le chiavi. Values mi dà una lista con la seconda colonna, solo i valori. Items mi dà una lista con tutte le coppie, chiave e valore. Su queste liste poi potrò iterare, potrò fare dei calcoli, potrò fare ciò che voglio. Oppure semplicemente accedo ai singoli elementi, no? Per fare l'elaborazione che voglio. E allora, questa è, se vogliamo, la meccanica con cui funziona il dizionario. Allora, cosa me ne faccio di una struttura dati sul fatta, no? Che abbia queste caratteristiche? La posso usare, come dicevamo, come vi ho accennato prima, in due modi diversi. Il modo più semplice è usarlo direttamente come mappa o array associativo. Quindi, perché si chiama array associativo? Allora, in qualche modo facciamo un parallelo con la struttura dati che tradizionalmente si chiama array, che invece in Python si chiama lista, no? Dove una lista è una sequenza che memorizza una serie di valori indicizzati da un intero. I valori dentro una lista possono essere qualsiasi, mentre gli indici sono vincolati. Ecco, in un dizionario, anziché avere una sequenza ordinata, ho un mapping, no? Una serie di corrispondenze che vengono memorizzate sotto forma di coppie chiave valore. Quindi ciò che ho svincolato essenzialmente è il valore dell'indice che può essere un valore qualunque, purché sia immutabile, quindi possa essere messo dentro un insieme. Quindi in qualche modo è come se fosse un array il cui indice non è un numero, non è vincolato ad essere un numero. Allora, cosa si può servire? Ci può servire ad associare delle informazioni ad alcuni elementi. Noi abbiamo prima associato dei voti alle persone. Qui lo possiamo usare, fa vedere come una serie di contatori, no? Questo è un dizionario che viene usato per associare a ciascun nome un valore, un conteggio. Che ne so, se voglio calcolare la frequenza con cui compaiono certi termini. Noi nella cosa di Alice abbiamo capito quali erano le parole presenti, ma non abbiamo visto quante volte comparissero. Allora io potrei avere un... l'insieme delle parole era un set che mi dava tutte le parole. Io con un dizionario posso associare a ciascuna di queste parole il numero di volte in cui questa parola compare. creando un dizionario la cui chiave è la parola e il cui valore è il numero che mi indica quante volte questa parola compare. E qua sotto vedete l'istruzione count in nome uguale count in nome più uno che mi permette di aggiornare questo numero ogni volta che vedo una parola nuova. quindi in questo caso il dizionario mi permette di gestire una serie di dati di frequenza, di questa volta scorta quando facevamo gli insiemi, quando abbiamo fatto gli esercizi sul testo di Alice, abbiamo contato quante volte, ricordatevi, abbiamo fatto fare l'esercizio, abbiamo fatto insieme l'esercizio in cui contavamo la distribuzione di frequenza della lunghezza delle parole. Quante parole è la lunghe 1, quante parole è la lunghe 2, quante parole è la lunghe 3. Perché? Ma perché a quel punto il valore chiave era la lunghezza e essendo un numero intero lo potevamo usare un array, una lista. Però la parola stessa non sapevamo, non avremmo saputo come gestirla. Ecco, l'avremmo potuto gestire così e magari sicuramente lo facciamo come esempio. Un altro esempio, ci sono dei codici che danno accesso a certe informazioni, tipo appunto la matricola può essere usata come chiave per accedere alle informazioni sullo studente, in questo caso ho messo semplicemente una stringa, ma potrebbe essere, diciamo così, una struttura dati più complessa, a sua volta magari anche un altro dizionario, un record di dati associati a quella matricola. Allora, in questo caso le chiavi sono numeri interi, sono numeri di matricola, ma io non uso una lista per memorizzare queste, perché queste chiavi sono sì numeri interi, ma non sono numeri interi consecutivi che partono da zero, sono numeri interi qualsiasi. Allora, se dovessi usare una lista, dovrei usare una lista con 234 mila caselle di cui tutte vuote tranne tre, sarebbe stupido. Allora, nonostante l'indice sia numerico, lo uso come dizionario, lo uso come campo chiave e quindi mi dà accesso solamente a quegli elementi che sono effettivamente definiti. Quindi questo dizionario avrà tre items. non sempre, quando l'indice è un valore numerico, se capita che questo valore numerico sia numeri consecutivi che partono da zero, posso anche concederli se partono da uno, ok, possiamo decidere di metterli in una lista in cui l'indice della posizione di ciascun elemento indica la sua chiave, come abbiamo fatto quando facciamo la statistica delle lunghezze delle parole. Ma nel caso generale, quel valore numerico può essere usato come chiave in un dizionario, a questo punto non abbiamo più nessun limite di contiguità dei valori che avremo invece su una lista. Ovviamente, l'abbiamo già visto nel nostro esempio dei voti, il valore associato di una certa chiave può essere un qualunque oggetto python complesso a piacere, quindi in questo caso, anziché mettere una stringa che conteneva nome e cognome, metto una lista di due stringhe, che possono contengere separatamente il nome e il cognome, volendo potrei aggiungere un altro elemento che è un'altra lista nidata che contiene l'elenco dei voti, qui non mi fermo più, oppure un dizionario che contiene il nome dei corsi e il voto ottenuto, lo posso costruire complesso a piacere. Sul lato valore di un dizionario posso costruire gli oggetti che voglio, poi chiaramente poco per volta faremo esercizi per evitare di perderci. Tutte queste strutture sono tutti esempi appunto di come si sfrutta il mapping, l'associazione chiave valore per rappresentare una raccolta di dati indicizzata non da numeri sequenziali, ma indicizzata da qualcos'altro. Ecco, questo qualcos'altro può essere a sua volta anche più complesso. Abbiamo visto un esempio con le stringhe, abbiamo visto un esempio con i numeri, ma la chiave di un dizionario può anche essere una tupla. Allora pensate a tutti i giochi di scacchiera, di matrice, eccetera eccetera. Allora se io voglio avere una struttura dati che mi dica dove sono i miei pezzi sulla scacchiera o viceversa, cosa c'è sulla scacchiera, io posso dire ad esempio nella casella 1-3 c'è il re. Come chiave sto usando una tupla che rappresenta la riga che è la colonna della scacchiera. Quindi questo dizionario avrà tanti item, ciascuno per ciascuna casella occupata e quando io accedo a quel dizionario il valore che ottengo, data le coordinate di una casella, sarà in questo caso una stringa che è il nome del pezzo che ci sta sopra. E questo mi facilita a rispondere alla domanda cosa c'è in quella casella? Ho una tupla che mi dà le coordinate della casella, se questa tupla in dizionario, in pezzi, allora vuol dire che c'è qualcosa. Che cosa? Beh lo vado a estrarre con la parentesi quattro. Se invece not in, se non c'è quella chiave nel dizionario vuol dire che la casella è libera. Questo mi renderebbe difficile rispondere a una domanda inversa, cioè dov'è il re? Per rispondere a una domanda dov'è il re dovrei scandire tutto il dizionario alla ricerca di una coppia chiave valore il cui valore sia uguale al re. Non posso fare accesso diretto conoscendo il valore, posso fare accesso diretto conoscendo la chiave e in questo caso la chiave è una coppia anziché un valore singolo. Oppure, vabbè, posso addirittura usare, ma attenzione però chi gioca a scacchi sa che le colonne non si misurano così come numeri, cioè le colonne sono abc dalla a alla h e le righe sono dalla 1 alla 8. Quindi come coordinate di una casella come chiave ha più senso usare una tupla la cui numero di colonna, perché normalmente appunto scrivo B3, allora il primo elemento sarà il numero di colonna e il secondo elemento sarà il numero di riga che è una notazione più familiare a chi lavora in quel dominio specifico. È un po' strano normalmente quando indiciamo una matrice il primo indice è l'indice di riga e il secondo è l'indice di colonna, ma qui si usa lavorare in modo diverso dando prima la colonna e poi la riga e allora perché non adeguarci? Quindi in questo caso stavo creando un dizionario la cui chiave è una tupla di due coordinate, la cui prima coordinata è una stringa, perché così chiamiamo la colonne e la cui seconda coordinata è un numero perché così chiamiamo le righe. E poi provo a mettere il pezzo che dice che è un re, un pedone, una torre, bianco oppure nero, quindi qui aggiungo un'informazione sul colore del pezzo volendo. Adesso mentre nelle coordinate c'è uno standard di nomenclatura delle caselle sul nome dei pezzi purtroppo non c'è uno standard internazionale perché dipende dalla lingua, il nome, la lettera iniziale del pezzo dipende dalla lingua, però dobbiamo decidere come rappresentarlo. Quindi di nuovo data una coordinata di una casella mi permette facilmente di dire cosa c'è dentro. Questa cosa qui la sapevamo fare anche con le matrici, con le liste di liste, no? Potevo fare una lista di otto liste, di otto colonne ciascuna, quindi otto righe per otto colonne e dentro ciascuna casella, abbiamo già fatto questo esercizio in altri termini, ci mettevo un valore oppure non ci mettevo nulla. Nulla voleva dire uno spazio, voleva dire una stringa vuota e purtroppo avendo una lista le posizioni le devo occupare tutte e quindi quando ho una disposizione come si dice sparsa in cui ho tante caselle potenziali ma poche occupate, la maggior parte sono vuote, rappresentarlo come lista è più faticoso perché poi devo gestire, devo decidere come gestire, presentate il tris, il gioco del tris, che abbiamo fatto qualche laboratorio fa. Quella matrice la dovevamo inizializzare con delle caselle vuote e sul vuoto tanti si sono incasinati, qualcuno ha messo uno spazio, qualcuno ha messo una stringa vuota, poi quando lo stampi devi trattarlo ogni volta in caso particolare, eccetera. Mentre invece con una rappresentazione di questo genere ci metto dentro solo le celle occupate, quelle vuote non le considero. Poi in realtà la rappresentazione a matrice per il tris era molto comoda per vedere chi aveva vinto, una rappresentazione a dizionario per il tris sarebbe stato da sudare molto di più per capire se qualcuno aveva vinto perché ti trovi le x e le o in ordine casuale. Ma questi sono solo esempi per farci vedere, diciamo così, l'uso del dizionario nella sua natura base che è quella di mappa. Mappa un insieme di valori su un altro insieme di valori. Poi però esiste un altro uso più particolare, più specifico, che però è, diciamo così, statisticamente più frequente, che è quello di usare un dizionario, qui è scritto come record di dati. Pensate a delle informazioni strutturate, come quelle che possiamo leggere da un file di dati strutturato, un file CSV ad esempio, come quello che abbiamo visto la volta scorsa. Ricordate l'altra volta, due settimane fa se non sbaglio, letto dai file CSV dove c'era l'elenco dei pianeti ad esempio, dove ogni pianeta aveva una serie di informazioni, oppure l'elenco dei film. E quando abbiamo letto quelle informazioni leggevamo il file di campi separati da virgola all'interno di una lista e ci ricordavamo che la prima colonna era il nome del pianeta, la seconda era la massa, la terza era la densità, ci eravamo anche un po' incasinati, no? Perché per contare le colonne alla fine non sapevamo più che cosa stavamo stampando. Cioè ogni riga del file era un dato, un dato strutturato come record che ha più campi e questi campi hanno significato diverso. Cioè le varie colonne sono la prima, la seconda, la terza, la quarta, ma sapere il numero di colonna non mi dice nulla, quello che mi interessa è sapere il significato dei dati di quella colonna lì. Allora rappresentare come lista questi dati, questi record si può, dopodiché qual è il significato della quarta colonna me lo devo ricordare e il programma diventa anche meno leggibile, cioè person di uno è il cognome o il nome. Quando scrivo il codice, vabbè, lì c'è l'esempio sopra, è facile, ma 40 righe di programma più sotto devo sempre tornare avanti e indietro per ricordarmi cosa c'è nella colonna 1, nella colonna 2 e così via. Allora non possiamo usare i dizionari per far sì che l'indice della prima colonna non sia 0 ma sia nome, l'indice della seconda colonna non sia 1 ma sia cognome, cioè usiamo chiavi non indici, usiamo un dizionario per dare dei nomi alle posizioni della lista, così, cioè per rappresentare la singola persona non rappresento la lista dove c'è un miscuglio di stringhe e numeri e io devo ricordarmi qual è il significato di ciascuno. Ma creo un dizionario le cui chiavi siano fisse, sono sempre le stesse, che sono nome e cognome, sempre le stesse all'interno del file praticamente, dei vari record del file e mi dicono esplicitamente il significato dei vari campi, quindi uso delle chiavi che rappresentano il tipo di dato, il nome del dato. Ok? Quando lo rappresentavo come lista questo sarebbe stato 0, 1, 2, 3, 4. 4 è la professione, qui c'è scritto profession, è più chiaro, non c'è scritto 4. Ok? Quindi quando leggo dei dati che hanno una loro struttura, il singolo dato che è fatto di più campi conviene metterlo dentro un piccolo dizionario le cui chiavi praticamente sono i nomi delle colonne, se ci immaginiamo i dati in file Excel o in file CSV. Le chiavi sono le colonne quindi sono le stesse, se io ho tante persone, persona 1, persona 2, persona 3 da gestire, i pianeti o i 9 pianeti, ciascun pianeta ha gli stessi dati, ha il nome, la massa, la densità eccetera eccetera. E quindi io potrò memorizzare l'insieme dei pianeti come lista, come elenco di pianeti, lista di elementi, i quali elementi non sono a loro volta liste ma sono a loro volta insiemi, insiemi i cui, le cui chiavi sono le stesse. Cioè la pianeta 1, la persona 1 avrà le stesse chiavi, first name, last name, birth date eccetera, che ha persona 2 e le stesse chiavi che ha la persona 3 perché sono tutti record dello stesso tipo, di tipo persona, di tipo pianeta, di tipo film. Quindi questo mi permette di andare a, adesso lo facciamo direttamente con un esempio, non prendendo i pianeti, di andare a scrivere e leggere le singole colonne per nome, dando molta più, diciamo così, comprensibilità e leggibilità al codice. Proviamo a farlo, se non sbaglio qua c'era l'esempio dei pianeti, quindi ci copiamo questo file dei pianeti e proviamo a lavorarci. Ricordate i pianeti erano file fatto così, era un file separato da virgole, nella prima riga c'erano i nomi delle colonne e poi nelle righe successive c'erano i dieci, poi proprio pianeti non sono perché la luna non mi risulta sia un pianeta, però prendiamolo, a parte Plutone che è in discussione, ma la luna di sicuro non è un pianeta. Fa lo stesso, è un corpo celeste, su cui possiamo provare a leggere, come vedete, questi dati sono un insieme di record. Un record è l'insieme di informazioni relativo a un singolo elemento, in questo caso un pianeta. Allora, noi cosa possiamo fare? Possiamo costruire, prendiamo un programma nuovo e lo chiamiamo pianeti e proviamo a leggere questo nostro file csv, possiamo leggerlo in modo semplice, senza usare la libreria csv, tanto non c'è nulla di particolare, possiamo allunque, with open planets.csv, modalità lettura, encoding utf 8, Allora, io posso avere la prima riga, non mi interessa, la legge la butta via, e invece sulle altre righe posso estrarre i vari campi della riga posso estrarre i vari campi dai, posso fare, scrivere il nome giusto for, non while, for line in file campi uguale line.split ce l'ho fatta facciamo anche un restrip per togliere vabbè, fin qua non abbiamo fatto nulla di speciale, l'abbiamo già fatta l'altra volta. adesso ho una lista ho una lista che contiene nelle varie posizioni 0, 1, 2, 3 campi di 0 conterrà il nome Mercury, Venus, Venus, Earth eccetera campi di 1 conterrà campi di 1 conterrà la massa campi di 2 conterrà il diametro e così via possiamo decidere di creare un record che descrive un pianeta un pianeta come lo posso descrivere? lo posso descrivere dando il nome e quindi creo un dizionario le cui chiavi siano le proprietà dell'oggetto che mi interessa rappresentare il nome lo estraggo da campi di 0 poi la massa la estraggo da dove era la massa la massa del secondo campo quindi campi di 1 poi già che ci sono questa massa la converto in float perché in realtà altrimenti era una stringa e poi magari mi interessa solo un'altra proprietà che era ad esempio possiamo prendere la gravità ok? che colonna è la gravità? adesso 0 1 2 3 4 quindi pianeti la gravità virgola gravità float di campi di 4 ecco se facciamo le cose bene l'unico momento in cui ci interessa stare lì a contare le colonne è questo in questa riga qua quando stiamo estraendo i dati dal file perché da quel momento in avanti i vari campi le varie informazioni a proposito dei pianeti tutti hanno un nome e quindi io potrò a questo punto aggiungere ai miei pianeti che saranno una lista che li contiene tutti potrò appendere un record che ho appena creato quindi sto creando una lista di pianeti ciascuno dei pianeti a sua volta è un dizionario un record che contiene e tutti questi record contengono tutti gli stessi campi ops proviamo a vedere cosa esce fuori se non esce fuori un errore e infatti cosa ho sbagliato ah scemo perché ho fatto uno split che lavora sugli spazi mentre in realtà devo splittare sulle virgole ok e viene fuori questa cosa qui magari per vederla meglio la guardiamo in debug col debug e quindi metto un breakpoint subito prima di questa print e andiamo in debug per eseguire questo programma che legge il file e mi da questa struttura pianeti eccola qua guardiamo cosa ho creato pianeti è una lista di 10 elementi elementi di indice 0, 1, 2, 3, 4, 5 e come tutte le liste hanno gli indici numerici ma il valore che sta dentro questa lista a sua volta è un dizionario di tre campi non abbiamo visto la len del dizionario ma il numero di elementi che stanno dentro e questi tre campi sono sempre nella struttura di dizionario chiave valore chiave nome valore mars chiave massa valore 0, 64 chiave gravità valore 3, 7 mentre secondo quadro nelle altre posizioni della lista ci stanno dei dizionari che sono fatti nello stesso modo cioè le cui chiavi sono sempre le stesse quindi se io volessi a questo punto fare delle elaborazioni in cui che ne so calcolo qual è il pianeta che ha la gravità massima per dirne una vabbè posso lavorare su questa lista andando a fare i confronti tra i vari campi quindi ho letto la lista a questo punto voglio calcolare determina sappiamo che è Giove dovrebbe essere il pianeta che ha la massima gravità che ha la massima gravità e vabbè allora ci facciamo un max G uguale 0 posizione del max uguale 0 e a questo punto itero sulla mia lista for pianeta in pianeti il pianeta è la lista il pianeta è il singolo elemento della lista che è un dizionario e vado a vedere che se la anzi scusate non post max ma diciamo il nome max il nome del pianeta max perché voglio il nome del pianeta non la posizione non mi interessa quindi se per caso la gravità nel pianeta considerato pianeta è un dizionario mi interessa il valore associato alla chiave gravità è maggiore della max G che ho trovato allora il nome del pianeta che ha la massima gravità sarà me lo salvo pianeta di nome quindi vado a iterare una per una i vari pianeti ciascun pianeta è un dizionario di questo dizionario contiene dei campi che so già quali sono ho deciso io come si chiamano le chiavi sono sempre uguali per tutti e mi rappresentano i vari attributi le varie proprietà le varie colonne associate a quel record e visto che i record sono tutti di tipo pianeta avranno tutti gli stessi attributi e quindi posso accedere qua alla gravità al nome eccetera che è molto più leggibile che scrivere qua pianeta di 2 o di 4 e qua scrivere pianeta di 0 altrimenti dopo un po' non capisco più cosa sto facendo a questo punto potrò dire che la gravità massima la massima gravità si trova su nome max e vale max G poi qui devo aver sbagliato qualcosa perché mi dice che la massima gravità si trova su plutone vale 0 ah si non ho aggiornato max G non avendo aggiornato max G lui ad ogni nuovo pianeta che trovava pensavo di aver scoperto il massimo e quindi mi ha dato come risultato l'ultimo pianeta di gravità eh vabbè questa volta è giusto quindi molto spesso costruiamo strutture dati di questo genere liste di dizionari liste di record usiamo pure questa scorciatoia un record che cos'è? è un dizionario i cui campi chiave rappresentano le varie proprietà di un elemento sono uguali per tutti gli elementi e i valori rappresentano chiaramente il valore associato a quello e questi dizionari sono tipicamente inseriti in una struttura dati più grande che può essere ad esempio una lista oppure oppure potrebbe essere a sua volta un dizionario io potrei mettere i dati sui pianeti in un dizionario la cui chiave è magari il nome del pianeta se avessi bisogno di accedere frequentemente ai dati di un pianeta allora quali sono i dati di Saturno? e allora se ce l'ho in una lista la prima cosa che devo fare è andarmi a cercare nella lista dove si trova Saturno e poi accedo ai dati allora a questo punto sarebbe più comodo avere gli stessi dati in un dizionario la cui chiave è il nome del pianeta quindi avrai un dizionario di dizionari il primo dizionario lo uso in modo associativo cioè dato un nome, dato un valore associo certe informazioni il secondo dizionario invece di tipo record la vera differenza tra i due modi di usare il dizionario è che nel primo caso nell'area associativo la chiave è un valore del programma, è un numero, un dato nel secondo caso quando uso il record la chiave sono delle chiavi mie interne sono degli identificatori come fossero i nomi di variabili che mi scelgo io internamente al programma ma non rappresentano dei dati dell'utente se volessi vedere anche questa seconda possibilità è facile perché io basta che crei un secondo gli faccio entrambi nello stesso programma i pianeti come dizionario poi ovviamente in un programma vero o uso una o uso l'altra però qui li vediamo entrambi insieme pia non pina pianeti leggo il record nello stesso modo ma anziché appenderlo in una lista aggiungerò al mio dizionario di pianeti usando la chiave data dal nome del pianeta campi di zero il dizionario che ho appena creato vedete la piccola differenza pianeta è sempre lo stesso record in un caso questo record lo appendo ad una lista in un altro caso questo record lo aggiungo a un dizionario usando come chiave il nome del pianeta cioè l'identificativo univoco di questo record allora se riguardiamo il programma in debug e vediamo queste due strutture dati quella di prima era questa pianeti che è una lista che contiene dei record che sono dei dizionari nell'altro caso il pianeta dizionario è un dizionario indicizzato per chiave la cui chiave è il nome del pianeta e quindi lavora come array associativo associa a un nome, a una stringa, a un dato un altro dato questo altro dato a sua volta è un dizionario un record cioè un dizionario usato con le chiavi prefissate in realtà quando lo pensiamo per noi sono due strutture dati diverse uno associa un dato, un valore nell'altro caso il valore è strutturato secondo una serie di campi che sono nodi sono predefiniti, li ho decisi io ma in python usiamo la stessa struttura di dati il dizionario per rappresentare entrambe le cose in altri linguaggi di programmazione questo record l'avremmo realizzato come struttura o come classe o come oggetto si può fare anche come classe o come oggetto in python però esiste la possibilità di farlo come dizionario che è, diciamo così, già direttamente alla nostra portata senza dover imparare a costruire gli oggetti ok, quindi la stessa struttura dati ha due scopi la usiamo per due scopi che sono apparentemente abbastanza diversi vabbè qui ci sono altri esempi ma fanno la stessa cosa vi ricordate che quando abbiamo visto i file strutturati abbiamo visto la libreria csv che ci permetteva di evitare di fare lo split tutte queste belle cose e ci dava già l'elenco di campi sotto forma di lista si creava un csv.reader se vogliamo possiamo modificare il nostro programma per utilizzarla importiamo csv e prima di fare readline e tutte queste cose possiamo dopo aver creato readline nella prima riga la buttiamo via possiamo creare un oggetto csv.reader partendo dal file e quindi l'iterazione la facciamo direttamente sull'oggetto reader che mi salta un passaggio cioè ad ogni iterazione il reader mi da già una lista dei campi già splittati quindi ad ogni iterazione ho già direttamente i campi e non devo fare questa porcata di splitting se il file è in formato csv pulito mi faccio fare lo split, lo strip eccetera eccetera direttamente dalla libreria in questo caso mi dovrei trovare esattamente lo stesso risultato ok? quindi il csv.reader prende un file e fa sì che l'iterazione sulle torre di csv mi dia già direttamente i campi separati anziché una riga che mi devo separare a mano questo l'abbiamo già visto ma mi restituisce una lista questa lista di campi poi se a me interessa andarla a convertire in un record mi andrò a prendere i vari pezzettini esiste un'altra funzione un'altra classe all'interno del modulo csv che si chiama DictReader questa classe prevede cioè immagina che a me interessi creare un record per ogni riga sotto forma di dizionario quindi questa classe mi fa ancora il passo in più non solo mi analizza la riga me la separa e mi crea una lista di campi belli isolati ma questi campi me li mette già in un dizionario usando come chiavi i nomi delle colonne della prima riga allora questo però dobbiamo fare in un file diverso perché altrimenti non capiamo più nulla pianeti called DictReader quindi sempre nel modulo csv uso la classe DictReader ok che crea questo oggetto lettore qui c'è la documentazione crea un oggetto che funziona come un normale reader per leggere il file quindi un reader normale ti dava una riga per volta il csv reader ti dava una lista per volta ma questo mappa già l'informazione di ciascuna riga in un Dict in un dizionario le cui chiavi sono date da un parametro opzionale quindi posso avere un campo field names che è una lista di chiavi dei nomi che posso utilizzare per le chiavi ma la cosa interessante è questa se il field names è omesso allora vengono usati i valori presenti nella prima riga del file grande e quindi nel nostro caso lasciamo non abbiamo la prima riga del file contiene già i nomi dei campi quindi possiamo semplicemente creare un Dictionary Reader e alla fine ogni volta che itero su questo lettore di Dictionary Reader mi da già un dizionario che è già il mio pianeta quindi evito anche di fare questo passaggio qua di convertire la lista in un dizionario butto via questo e non mi rimane che fare l'append nella lista ok, quindi io cosa facevo? una riga per volta ok, leggo sul file poi faccio lo split sulla virgola per avere i vari campi e ottenevo una lista questo passaggio qua me lo può evitare me lo fa già il csv.reader poi dagli elementi della lista passo a un dizionario che ha come chiavi i nomi delle colonne e come valore il valore che ci trovo lì dentro questo me lo posso fare io come abbiamo fatto prima oppure il Dict Reader me lo fa già lui e mi da già quando arrivo qua alla print pianeti no, aspetta devo fare il run di questo non dell'altro mi si s'arrabbia un pochino fatemi commentare quello che c'è sotto ah, campi di zero non c'è lo vediamo dopo ecco, mi crea un dizionario fatto così una lista di dizionari chiave planet nome Mercury chiave questa roba qui mass tra parenti di 10 alla 24 è ciò che c'è scritto sulla prima riga non sono particolarmente belle quelle prime righe lì diametro questo eccetera eccetera e poi il secondo elemento il terzo elemento e così via se lo volessi aggiungere al anche al dizionario quello che mi manca ovviamente è campi di zero ma campi di zero lo posso ottenere da pianeta come si chiama la prima colonna si chiama planet e quindi lo posso ottenere nello stesso modo metto come solito breakpoint qua per vedere cosa abbiamo combinato quindi abbiamo qua di nuovo le due versioni sotto forma di lista o sotto forma di dizionario sotto forma di dizionario associativo chiaramente la chiave è il nome del pianeta sotto forma di lista l'indice e il numero e poi dentro ci sono niente questo è quello vecchio scusate devo fare debug di quello giusto perché stava facendo ancora quello vecchio ok quindi sono sia come lista che come dizionario quando vado a prendere il singolo elemento ho un dizionario che è molto più ricco io a mano ci avevo messo solamente tre campi dentro perché ero pigro mentre qua lui ci ha messo in automatico tutti i campi presenti nel file tutte le colonne presenti nel file ci evita parecchio lavoro in compenso però ci crea due piccoli problemi il primo problema è i nomi delle colonne che sono scomodi poi da gestire è quello il motivo per cui quello di prima nome gravità lo dovrei modificare nome al posto di metoplanet al posto di gravità dovrei mettere gravity tra parentesi m secondo quadrato ogni volta e può essere un po' noioso per questo può essere utile nel csv reader specificare l'argomento field names che in cui decido io che nomi dare alle colonne che nomi dare ai campi del record e non mi prendo così brutalmente quelli che sono nel file dipende ovviamente cosa c'è nel file il secondo problema è che lui fa tutto in automatico però non capisce che questi sono numeri e quindi me li rappresenta sempre come stringa quindi ricordiamoci quando poi ci dovremmo fare dei calcoli sopra che quelle sono stringhe anzi meglio ancora prima di fare i calcoli sopra convertiamoli in float o in into in quello che devono essere perché altrimenti rischiamo di avere che la gravità massima non è più quella di Giove ma rischia di essere quella della Terra perché 9,8 come confrontato trattato come stringa è maggiore di 23,1 trattato come stringa perché 9 viene dopo al 2 alfabeticamente 9,8 viene dopo è maggiore di 23,1 e quindi avremo risultati sbagliati chiaramente quindi in questo caso magari mi conviene fare uno sforzo uno sforzettino in più è dubito che tutto il lavoro lo fa lui di dire ok caro Dick Reader ti dico anche quali sono i field names e te li indico io adesso devo indicarli tutti ad esempio il nome e lo specifico così quali sono massa, diametro, densità eccetera eccetera dovrei metterli tutti non ho tempo di farlo adesso lo facciamo dopo giusto per capire cosa stiamo facendo e l'altra cosa che dovrei fare è prima di fare questo append andare a convertire i campi di questo pianeta e quindi fare qualcosa del tipo prima di aggiungere la lista questo come prima prendevamo il primo campo ma prima di salvare un dizionario lo convertivamo in float qui in questo caso il campo è già stato messo in dizionario sotto forma di stringa e me lo vado a modificare pianeti di in questo caso massa ad esempio uguale float pianeti di massa e così via se voglio il dato salvato con un tipo diverso da quello stringa me lo devo ovviamente convertire a mano prima di salvarlo così a questo punto quando accederò a pianeti di massa avrò il numero dimmi si il nome del pianeta si 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 eccolo qua pianeti diz ha come chiave il nome del pianeta e poi come valore il dizionario che contiene tutti i campi tra cui di nuovo il nome del pianeta vabbè pazienza ok allora questo chiaramente è la struttura dati che combinata vabbè qui c'è ancora un altro pochetto un altro insieme di cose che possiamo vedere domani ma combinata con le strutture dati che già conosciamo ci permettono di costruire dei castelli abbastanza complicati e di affrontare dei problemi effettivamente anche più strutturati di quelli che con cui ci siamo allenati fino adesso quindi diciamo il gioco serio inizia da oggi in avanti domani cominciamo a fare un po' di esercizi continuiamo a fare un po' di esercizi su questa struttura per conoscerla meglio grazie